ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come detto dal titolo vi farò vedere questo glitch per fare soldi infiniti per vendere due volte lo stesso veicolo per un cliente quindi requisiti sono avere un auto officina con un veicolo di un cliente che insomma vi porta dovete modificare e poi consegnare un altro requisito è ovviamente avere anche il personale dell'auto officina comunque trovate tutto in descrizione come al solito iscrivetevi al canale mi raccomando per non perdervi tutti quanti i contenuti insieme al gruppo telegram più grande in italia so che ci sono glitch migliori ve l'ho portati sul secondo canale ma se volete fare qualche vendita visto che questa settimana hanno i soldi tripli vi conviene fare questo glitch perché venderete la stessa auto due volte sostanzialmente e in pochi minuti insomma io mi sono fatto 400 mila dollari mi sembra partendo subito modificate l'auto del cliente fatto ciò tranquilli vi rallenterò la clip dovete fare questo come vedete abbiamo due opzioni dovete andare su consegna il veicolo premere x poi subito freccia in giù e poi nuovamente x tutto questo lo deve fare in maniera veramente veloce perché altrimenti non riuscirete ma fidatevi che una volta che avete capito ci riuscirete quindi come vedete premo x freccia in giù e poi x non mi è riuscito cosa fare se non vi riesce semplicemente premete opzioni andare su online e andate su sessione solo ad inviti quindi come vedete premo opzioni online trova una nuova sessione sessione solo ad inviti così tornerò nella mia auto officina quindi adesso vi faccio vedere come fare andate qui premete freccia destra cliccate x su consegna il veicolo e subito freccia in giù e x nuovamente se ragazzi vi farà un'animazione come avete visto e nell'animazione vedrete il insomma personale anche se avete premuto per consegnare il veicolo normalmente vuol dire che ci sarete riusciti in alternativa riprovate come vedete un'altra conferma è che in alto a sinistra vi uscirà che il 60 ti contatterà e invierà il pagamento dopo che il membro del tuo staff avrà consegnato il veicolo al cliente voi nel mentre andate a consegnare il veicolo senza ovviamente far danni ci metterete un minuto neanche e dopo ovviamente vi darà il pagamento tranquillo ve lo faccio rivedere ma vi ripeto è veramente facile è tutta questione di timing insomma dovete essere veloci a premere i tasti ma veramente facile facile come vedete è consegnato il veicolo al cliente mi paga e potrò tornare nuovamente alla mia auto officina oppure aspettare lì davanti e adesso 60 mi invierà il pagamento del personale che ha consegnato lo stesso veicolo quindi come vedete in questo caso mi sono fatto 75 mila dollari più altri 72 mila 500 che derivano appunto dallo stesso veicolo consegnato al personale vi arriva dopo circa 5 10 minuti fatto ciò rientrate nuovamente nell'auto officina e passate a un altro veicolo lo modificate come vedete e nuovamente premete freccia destra per consegnare il veicolo nuovamente x su consegna il veicolo e subito freccia in giù e x quindi mi raccomando veloci a premere freccia in giù e x dopo che avete premuto x insomma la prima volta quindi x freccia in giù e x subito e come vedete vi fa quell'animazione insomma un po' buggata dove si intravede anche uno dei membri del personale e nuovamente come vedete riuscito al primo tentativo con il messaggio in alto a sinistra di 60 che vi contatterà per il pagamento appunto consegnate il veicolo e avete fatto il secondo appunto veicolo ovviamente quando vi arriveranno altri veicoli da modificare e consegnare potete ripetere con questo metodo che si vi ripeto non è per fare miliardi ma comunque non vedo perché vendere una cosa a 100.000 quando la potete vendere a 200.000 visto che come vedete in questo caso mi hanno dato 90.000 dollari per questa comet e me ne arriveranno praticamente altri 90 circa dall'appunto stessa auto come vedete 98.000 addirittura qui ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente nei commenti vi ripeto lo so non è per fare miliardi so che c'è il money freeze sta sul secondo canale se vi interessa mi raccomando iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video